Sono venuta a Tunisi per lavorare. Ma fare che? Non c'è lavoro qui. Aprirò il mio studio sul tetto. Al cinema dall'8 ottobre, Un divano a Tunisi è una divertente commedia su Selma, una 35enne che torna nella Natia a Tunisi cercando di lavorare come psicoanalista. Non sono un medico, non do certificati né medicine. Allora a che servi, scusa? Primavera araba o meno, Tunisi non sembra pronta ad accogliere o a capire un lavoro del genere, per giunta svolto da una donna. Gli equivoci si sprecano. Pensi che un arabo tira da fuori i soldi per parlare dei fatti suoi con lei? Non succederà mai! Diretto da Manel Labidi, Un divano a Tunisi arriva in sala dall'8 ottobre, dopo essersi aggiudicato il premio del pubblico alle giornate degli autori di Venezia. Alla barba. È un musulmano. No, è ebreo. No, è ebreo.